E benvenuti ragazzi io sono cd 17 e oggi do il benvenuto sul prossimo episodio di fortnite Dopo aver fatto lui l'ultima volta soluzione rapida per br Tornano gli archi della stagione furi della settimana arcomania Soluzione rapida del 20 febbraio Debitare reali di forti tornano gli archi del passato primordiali La settimana arcomania del 22 febbraio quindi 2.02.2022 Oddio leggere ben due news che chiedete qua in sopra pressione La prima gli X-Men Rogue e Gambit si fanno dei nuovi ricordi in fortnite 25.02.2022 Del team di fortnite anche se un team posavano il loro potere per il male Annamary e Remy Libre si sono messi sulla strada della redazione quando si sono uniti agli X-Men Conosciuti come Rouge e Gambit Questi due X-Men continuano la loro lotta per forze del bene sull'isola di fortnite Fate travolgere dall'amore con il set Rouge e Gambit Rouge e Gambit non sono solo colleghi Sono felicissimi Sono felicemente sposati Con gli oggetti del set Rouge e Gambit nel negozio oggetti Avrai non solo i loro abiti ma anche gli accessori abbinati per entrambi Se i fan di Rouge e la bella del sud degli X-Men Un altro costume sono disponibili in queste attività storie a tema Rouge Il vostro decorativo è per giovani dotati di Charles Xavier Musico con il costume Quel che serve per mostrare un po' di spirito scolastico Ascia X-Olografica Strappate direttamente dalle pareti della stanza del pericolo Tertaprano il Blackbird Scott sicuramente sa che lo stiamo prendendo in prestito E Mott giù le mani Tiene le mani a posto zuccherino Per i seguori di Cajun scatenato Il costume Gambit è disponibile insieme a questi accessori a tema Gambit Dose decorativo card cinetica incluso con il costume Giocare sul serio e sempre giocare Non ammi Se è sbagliato Non ammi Piccone beau di Libu Dacci dentro Mon cher D'altaprano Sto fissi delle carte Un vero aso nella manica Emote dai le carte Non è nelle carte Mon frère Scusate Ma avete anche il perché Guarda le emote Giù le mani E dai le carte in azione Prima di metterci Le le mani sopra Ok Che avete visto In orizzontale Ma Non vedo niente Il costume Rouge Il costume Rouge Più il nostro decorativo Scuola per i giovani dotati di Shark Saver E il costume Gambit Più il nostro decorativo Carte cinetiche Sono disponibili singolarmente come parte del bando Rouge e Gambit I nostri decorativi con il delta prime sono disponibili separatamente o nel bando attrezzatura Rouge e Gambit Inoltre il bando Rouge e Gambit include la schermata di caricamento Rouge e Gambit Le mani che avete in sopra pressione Re e regina di cuori Trova il tuo parte del coppia preferito e combattete le panni di Rouge e Gambit sull'isola Ok Era stata una news abbastanza Cioè media Il media di lunghezza News Ultima Ultima news di oggi Tracy Come la guai E il cuore del pacchetto Crue di marzo Ok News Così così Felicemente lunga Pacchetto crue di marzo Il cuore di Tracy Come la guai Mette radici sull'isola Qua ragazzi Evito un sacco di cose Quindi Vinticinque due Dove amici due Il portaggio del crue di Fortnite Pacchetto crue di marzo Pass battaccia Capito 3 stagione 1 Capito 3 stagione 2 Mille v-back Ogni mese E pacchetto crue di febbraio Spendibile fino al 1 marzo Alle 1 ora italiana In amore e in guerra Tutto è lecito E Tracy come la guai Lo sa Preparatevi a farvi furbi A farvi barri il cuore Dentro e fuori dal campo Di battaglia del pacchetto Chiodi Forte di marzo 22 Che sarà A spedizione Degli abbonati Alla Chiodi Forte A partire dal 1 marzo Alle 1 ora italiana Questa volta ragazza Per farvi un piacere a voi Vi faccio Vi faccio Accedere Bene bene Ma Per fatto così In verticale Il video Bene bene Affascina tutti con l'adorabile stile rosa Stabellante di Tracy O dargli un tocco sinistro Con stile oscuro Viola e nero Oltre al costume Tracy Combina guai Il pacchetto di marzo In cui diseguiti oggetti Lo secolativo Patti cuore Scalli Potrà anche Non avere Bastato cardiaco Ma è carina Da impazzire Piccone e faccio Di cuore A volte L'amore fa male Letteralmente Copertura Arsenale Di Tracy Una scarica Di elettricità pura Del pietro al cuore Come il costume I dosi coattivi Piccone Sono disponibili Con lo strel Alternativo Oscuro Altre vantaggi Per l'archeo di forte Pass battaglia Stagione 1 e 2 V-Bag Mensili E il pacchetto Di gennaio Pass battaglia Stagione 1 E capitolo 6 Stagione 2 Uno dei vantaggi Grandi Dell'archeo di forte È l'accesso Emigliato Al pass battaglia Stagione in corso Questo significa Che le buone attrattive Durante l'attuale Capitolo 3 Stagione 1 Riceveranno automaticamente Il pass battaglia relativo Se vivi già Accusato di pass battaglia Di capitolo 3 Stagione 1 Prima di abbonati Riceverai solo per una volta Un riboscio Di 250 v-Bag Sul tuo account All'anno Di capitolo 3 Stagione 2 Gli abbonati Atti durante Quella stagione Riceveranno Automaticamente Il pass battaglia 1.000 v-Bag Ogni mese Ok 1.000 v-Bag Ogni mese Gli abbonati All'archeo di forte Atti riceveranno 1.000 v-Bag Ogni mese I v-Bag Saranno ricevuti Nel giorno Consponente Alla data di fatturazione Questa fase qua Che poi ho detto Da I v-Bag Saranno Fino a Data di fatturazione Ve lo spiega In fondo Alla news Che vi leggerò Anche voi Ha effettuato L'iscrizione Il 25 febbraio Il 22 Si verrà I v-Bag L'iscrizione Poi Il 4 Inchietamento Sarà Attivo I v-Bag 25 febbraio Il 22 Il 25 apri Il 22 E così via Ricorda Che dato Ricorda Che dato Che ricevi Questi v-Bag Ogni Il giro Della data di fatturazione Non saranno presenti Nel pacchetto Il 3 mensile Pacchetto Che di febbraio Indomani Balla La sua danza Ma-ma-ma-ma-ma-cabra Ok Ma-cabra Ok Essere andato All'altro mondo Non impedisce A indomani Di spassarsene In questo Disponibile Nel pacchetto Che di febbraio Questo secchio Durato Veste Alla moda E dispende Con la sua testa Stato Strabosferica Non è accolto Al momento C'è solo offerta Indomani Ma vorresti Il suo costume Nessun problema Il pacchetto Che di febbraio E' esponibile Fino al 1 marzo Alle 1 ore Tagliara Quali giocatore Inizia a non ricevere Il pacchetto Che di marzo Oltre al costume Di indomani Il pacchetto Che di febbraio Contiene anche Il blusso decorativo Linea piatta L'affidatissimo Piccone Re del rave E la copertura In stile Indomani Lugube Glitter Con il blusso decorativo Reattivo Linea piatta Tieni vivo Il ritmo Con le emote Ogni volta Che segui Un emote Questo decorativo Pulsa tempo Per dare Un tocco In più Allo spettacolo Questa Immagine Animata Che si ripete Un po' di volte Qui non è un video Si ripete Quando c'è tutto Il Come dire Il raccomandino Diciamo Si ripete Questa Questa Immagine Animata Immagine Che parla Della Chiodi Fortnet L'apponamento Alla Chiodi Fortnet È disponibile Nel negozio Oggetti O dalla scheda Pass battaglia A entrare nel gioco Per immagini Informazioni Sul momento Vi siete I nostri Facu Sulla Chiodi Fortnet Importante Per ottenere Il pacchetto Chiodi Aspetta Che Magari Riesco anche A Ok Così Non vi Spodere Il canone Importante Per ottenere Il pacchetto Chiodi Amaso Potrebbe Essere Cessario Accedere Alla tua Plattaforma D'acquisto Ordinaria Se sono Passati Più Di 30 Giorni Da quando È effettuato L'ultimo Accesso A tale Plattaforma Quello Che Spiego Prima Cos'è Il Canone Il Canone D'avonamento Il canone D'avonamento Periodico Di 11,99 Dollari O il canone Locale Si è diverso Perché Noi È euro Comunque Che qui È dollari Viene Revitato Messe Menti Fino All'annoramento Può Annorare In qualunque Momento Consulta I temi D'elaboramento Per tutti I dettagli D'elaboramento Ricorda Che Il costo D'elaboramento All'archivio Di Forte Di Certe Regioni Sarà Aggiornato In seguito Per Allinearsi Ad altri Aggiornamento Di Prezzo Consulta L'ultimo Post Di Allinearsi Per Dettaglio Sulla Aggiornamento Dei Prezzo Di Forte News 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 C'è Plurale Comunque La News Video Di Forte Finito Come Sempre Spero Questo Video Vi sia Piaciuto Se Vi è Piaciuto Ragazzi Mi raccomando Commentate Condividete Iscrivete Al canale Attivate Seguitemi Su Instagram Chioccio La CD 17 E Ragazzi Un bacione E La Vostra CD Di Siete È Tutto Ragazzoli Ciao